Grazie a tutti voi che siete qui stasera e soprattutto a tutte le persone che in queste settimane, in questi giorni hanno lavorato, tutti volontari e volontarie, tengo a sottolinearlo, per raccogliere migliaia e migliaia di firme. Io credo che una delle prime cose importanti che abbiamo dimostrato è che si può fare una politica diversa. Io sono una parola proibita in quanto tale, infatti non mi vedete mai in televisione. Ieri ho raccolto le firme a Trapani di un gruppo di suore. Ecco, io che sono di rifondazione comunista e ringrazio le mie compagne e i miei compagni che hanno molto lavorato per raccogliere le firme, ringrazio quelle suore. Perché abbiamo bisogno che tutto il popolo, tutti i popoli e i miei si uniscano per fermare la guerra, la logica di guerra. Tutto ciò che di buono abbiamo ereditato dalle generazioni passate è stato conquistato attraverso l'unità tra persone diverse. Noi io direi che siamo la lista dell'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra e quella Costituzione l'hanno scritta comunisti, socialisti, liberali, cattolici, laici, atei. Tutte le persone che avevano vissuto il drago della prima e seconda guerra mondiale e avevano vissuto il fascismo. Se avete tutta questa paura del fascismo, io farei la battuta che potevano averla anche prima delle elezioni e fare altre scelte, beh innanzitutto firmiamo la guerra. E se abbiamo paura del fascismo, spiegatemi perché mandate le armi al battaglione Azov e a chi costruisce le statue ai complici del nazismo. Oppure spiegatemi perché continuate a sostenere Netanyahu, che è tutto meno che un democratico e un antifascista. Ecco, io credo, Mauro diceva non facciamo comizi, io a mettere in un'altra maniera, con Pasolini direi facciamo comizi d'amore. Noi abbiamo bisogno di amore, di mutuo appoggio, di solidarietà tra di noi. Noi abbiamo bisogno che i nostri soldi vengano spesi per aiutarci. Io inorridisco a pensare alle centinaia di miliardi usati per fare la guerra in Ucraina. Se li avessimo usati per fare la pace in Ucraina, l'Ucraina sarebbe diventata la Svizzera. E tutto questo è un programma di lunga durata. Lo diceva Fiammetta. Oggi Zelensky ha dichiarato che ha firmato un accordo per proseguire la guerra a dieci anni. Dieci anni. Ora, all'inizio di questa guerra, noi abbiamo gli aerei, come sapete, anzi non lo sapete perché ne parlano pochissimo. I nostri aerei sono in Romania. Il comandante della nostra aviazione, parlando di fronte alle camere riunite, alle commissioni di difesa, ha detto che se per un errore il nostro aereo avesse uno scontro con un aereo russo, ha usato questa espressione, sarebbe la fine. Scatterebbe il famoso articolo 5 e comincerebbero a volare i missili da una parte o un'altra. Allora, quando il Papa dice, Francesco, che siamo governati da pazzi, a ragione o torto. Vedete, noi siamo quelli che hanno voluto abolire i manicomi, ma non avevamo previsto di ritrovarci in questa situazione. Allora, davvero io dico che il problema principale dell'Italia non è lo scontro tra i due poli, che poi votano insieme per fare la guerra. Votano insieme il patto di stabilità, ma poi si astengono in Parlamento. Ecco un'altra parola, patto di stabilità. Il patto di stabilità significa che continueremo a tagliare la spesa pubblica e la sanità, però c'è una sola spesa che può aumentare all'infinito, quella per le armi. Ne sentivate il bisogno? Vi ricordate dopo il Covid? Chi di voi è stato come me ricoverato, col mascherone? C'è stato qualcuno. Quando io mi sono ripreso, il medico mi ha detto che mi sono salvato perché quel giorno c'era un posto letto per me. Quanti sono morti perché quel giorno non c'era per loro un posto letto? E ci saremmo aspettati che facevano il patto per aumentare i posti letto negli ospedali, non per i missili, i cannoni, i carri armati. E allora noi siamo la lista della pace e invitiamo tutti, quelli che in altre occasioni votano come gli pare, questa volta a darlo un segnale per fare capire ai loro partiti che stanno sbagliando e devono raddrizzare la strada. Ma siamo anche la lista della terra e della dignità, perché con le scelte che si stanno facendo non ci sarà né ecologia né giustizia sociale. Dall'Italia sono emigrati all'estero e dal sud verso il nord la stessa percentuale di giovani del dopoguerra. Ma vi pare possibile che al posto di fare un piano per il lavoro, utilizzando la Banca Centrale Europea per finanziarlo, questi signori ci dicono che dobbiamo costruire il pilastro europeo della difesa. Guardate, se consultate i dati, l'aumento delle spese per la difesa, che poi sono per la guerra, non produce occupazione, non aumenta l'occupazione, aumenta i profitti della finanza, che sa che gli stati compreranno nuove armi e investe nelle azioni dell'industria bellica. Con i soldi nostri facciamo fare affari ai miliardari a cui non facciamo neanche pagare le tasse. E concludo dicendo una cosa, noi questa lista per la pace, la terra dignità la dobbiamo fare, l'abbiamo fatta e dobbiamo cercare di avere un grande risultato anche per chi non può votare. In questo momento credo che abbiamo superato i 35.000 morti a Gaza, tra cui almeno 15.000 bambini e non so quanti hanno perso gli arti, comunque la loro vita è distrutta per sempre. Ebbene, la nostra Europa, il nostro Paese, il nostro Governo, il nostro Parlamento ci hanno reso complici di quello che sta accadendo a Gaza. Un tempo l'Italia lavorava per la pace tra israeliani e palestinesi, invece siamo diventati quelli che stanno dalla parte di Netanyahu. Il nostro Paese ha addirittura tolto gli aiuti all'Agenzia delle Nazioni Unite per assistere i rifugiati. E allora noi abbiamo un programma sociale, ecologico, ma come diceva il nostro Presidente Sandro Pertini, tutto il nostro programma si può riassumere in poche parole, svuotare gli arsenali, riempire i granai, i soldi nostre tasse, usiamoli per aiutarci, per aiutare chi ha bisogno, non per ammazzarci tra di noi o andare a ammazzare qualcuno lontano da noi. E facciamolo con una consapevolezza che è sbagliato dire che tanto noi non contiamo niente. Me lo hanno detto in molti distribuendo i volantini. A chi sta in alto non frega niente. È assolutamente vero se questa lista avrà un grande risultato e si sta già vedendo dalla raccolta firme tutto il sistema politico dovrà discutere di cambiare politica per andare indietro alle italiane e agli italiani. Mettiamocela tutta per fare una svolta di pace, terra e dignità nel nostro paese. Viva l'Italia antifascista! Viva l'Italia contro la guerra! Viva l'Italia antifascista! Viva l'Italia antifascista! Viva l'Italia antifascista! Viva l'Italia antifascista! Grazie a tutti.